Benvenuti al WBB Star Sono Daniele Canella, l'executico di chef di Clubhouse Fontanella Estate Oggi prepariamo i pici cacio e pepe Iniziamo con la ricetta Abbiamo farina 00, 280 grammi Farina di semola rimacinata 40 grammi Acqua 160 grammi Olio evo 30 grammi Iniziamo con la ricetta Mischiamo le farine Andiamo ad aggiungere l'acqua L'acqua deve essere tiepida Mettiamo l'olio Mettiamo l'olio Aggiungiamo l'olio Poi mettiamo l'olio Mettiamo l'olio Mettiamo l'olio Aggiungere l'impasto. Aggiungere l'impasto. La facciamo riposare per una mezz'ora a temperatura ambiente e poi andiamo a formare i picci. Andiamo a stendere un attimo. Aggiungere l'impasto. Aggiungere l'impasto. Semplificare il frutto. Aggiungere l'impasto. 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 Ora andiamo a cuocerli. Nell'acqua quando bolle saliamo per bene l'acqua. Poi andiamo a calare i fricci. Facciamo cuocere per un minuto in acqua. Un po' di parmigiano fa quello che magari è solo il fecorino. Un po' di parmigiano fa quello che magari è solo il fecorino. Aggiungere. Sì. 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 Andiamo a mettere sopra un po' di peperino. Un po' di peperino. Un po' di peperino. Un po' di peperino.